Winnie, sei solo un orso? Phil, ma quando reciti le scene con Winnie dell'orso, fai il ventriloquo o prima fai la scena e poi registri la voce? Mi puoi rispondere per favore? No, le cose stanno diversamente. È da quando sono piccolo che cerco di spiegare ai miei genitori, a chiunque, Winnie è una persona. Cioè, è un orso. Ma vive, capito? Vive, parla, mangia. Non riuscirete a traumatizzarmi ancora dicendomi che Winnie è un pupazzo, non parla, non fa niente. Non è vero. Winnie è come noi. Oh, rabbia. Vengo dall'Asia perché sono giallo. Phil, io mi trasferisco per trovare delle orse. Cari amici americani, per fare la pasta si fa bollire l'acqua, non si mette direttamente nel microonde. Sei strabiliante per essere il fratello della pimpa. Quando Phil fa un canto commenti, finisce lì il mio parlare e inizia lì il mio zittire. Dai su, togli un po' di secondi. Mmm, facciamo 150. Phil, io commento sempre, ma tu non mi metti mai. Commenta il più possibile. But you didn't have to cut me off Make a look and never up on the blue and wear my feet And I don't even need to love But you treat me like a stranger and I feel so rough But you didn't have to stop so low Have your friends collect your records and you change your number I guess I don't need the door Now you're just somebody that I used to know Che cos'è il Sexy Revival? È un video che sul mio canale è nascosto Che però potete vedere al link in descrizione Non perdetevelo Fa parte di un nuovo format che si chiama WhattaFrasse E niente, fillers, siamo arrivati alla fine di questo filegge Lasciate nei commenti le domande o quello che vi pare per il prossimo filegge Perché filegge vuol dire che Phil legge e poi risponde, fa cosa gli pare Noi ci vediamo domani con un nuovo video epico Ciao 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 Grazie a tutti.